Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Undaunted Normandy, gioco della Osprey Games portato in Italia e localizzato in italiano dalla Genos Games che io ringrazio di cuore per averci offerto questa copia per la recensione e grazie, tra l'altro è già un anno, un anno e mezzo che si collabora e ci tenevo a dirvi appunto che apprezzo da morire, grazie veramente di questa copia omaggio. Si va a parlare di un gioco ambientato in seconda guerra mondiale, quindi a parte c'ho anche la magliettina più o meno un tema, ma mi son messo, e si va a parlare di un Wargame Lite e ora vi spiego perché. Dopo la sigla. Undaunted Normandy, come vi ho detto gioco della Osprey Games, edizione che vedete qui davanti completamente localizzata in italiano dalla Genos Games, è un gioco ambientato nella seconda guerra mondiale di schermaglie e comunque battaglie veloci, quindi non ci saranno mai eserciti in campo e cose del genere, che vanno a prendere tutto quanto il panorama da inizio Operazione Overlord in su, poi dopo la conquista di Berlino, lo sapete insomma come è finita la guerra nel 45, quindi si parte dallo sbarco in Normandia nel 44, in questa confezione qui fino all'avanzata appunto successivamente a Berlino. E c'è già, se non erro, un'espansione ambientata in Africa, però non ancora tradotta in italiano. C'è già dallo spray, però quello è soltanto in inglese. Undaunted Normandy è un gioco bello perché è un gioco veloce e mi trovate d'accordo con tutti quei siti o altri youtuber che l'hanno detto prima di me, e comunque recensori, io sono d'accordissimo per il fatto che questo è un gioco per tutti. È un gioco per neofiti, quindi del genere, chi si vuole avvicinare a un wargame, perché ha delle regole molto semplici. Questo è il gioco giusto per introdurre chiunque al wargame, sia l'esperto che quello meno esperto che vuole essere introdotto. Ad esempio, volete introdurre qualcuno a un gioco tipo Warhammer 40.000, faccio un esempio, fateli prima fare una partita qui. Volete introdurre qualcuno magari a un gioco un pochino più complesso tipo Flames of War o anche Bolt Action? Fatele provare questo prima, perché ha delle meccaniche che sono semplicissime, si intavola in due minuti e si spiega nemmeno in uno. Vi faccio vedere un pochino come funziona al solito, ma prima di tutto, unboxing. Confezione del gioco, scatola non grandissima, vedete, rispetto alla mano, comunque veramente piena di contenuto e non ci sono miniature, qui ci sono tutti quanti token e segnalini vari, però è bello anche il disegno tipo ad acquerello, sembra qualcosa del genere, che non mi fa impazzire. Avrei preferito magari foto un pochino più storiche e cose del genere, però è fatto bene. È disegnato veramente bene e rende tantissimo l'idea. Apriamo. Il regolamento di gioco, che è veramente semplicissimo. Le regole sono poche, spiegate bene. Pieno zeppo di esempi e di disegni e la fase dello schieramento e della creazione della mappa è veramente facile. Dovete prendere il libro delle missioni, che è questo qua sotto, libro degli scenari, andare a vedere lo scenario dove giocherete, vi conviene farlo in successione, perché comunque raccontano una storia, e ci sono tutte quante le regole che vi fanno vedere appunto come andare a mettere tutti quanti i tile e soprattutto il numero delle tessere e le carte che verranno usate per formare mazzi sia dell'alleate che dell'asse. Poi ci sono tutti quanti i token che vanno a identificare il tipo di truppa. Vedete, c'è il mortaio, i cecchini, gli esploratori, i fucilieri, i mitraglieri, quindi c'è tutto. Non ci sono i veicoli, almeno in questa edizione base, non ce l'hanno messi. Io penso che successivamente, anche che sono affascinanti, verranno introdotti. E poi tutti quanti i token, tipo quello della radio che è per una missione in particolare, tipo tutti quanti i token degli obiettivi ed altri segnalini che dovete mettere sul campo. Soprattutto quelli più importanti sono questi qua giù, perché vi vanno a identificare una zona appena esplorata e da quest'altra parte una zona invece appena conquistata, uguale dall'altra parte le truppe invece dell'asse. Poi abbiamo tutti quanti i tile di gioco, che sono questi che ora vi faccio vedere poi da vicino. I dadi, che sono semplicemente i dadi da 10, dove un 10 è sempre un successo. Anche se la prova per colpire dovesse essere di 12 o più, quindi impossibile, un 10, uno 0, quindi è sempre un successo. E poi tutti i mazzi di carte. Sono i mazzi per gli alleati, per gli americani e di qua per l'asse. Il contenuto è semplicemente questo qui, non c'è tantissima roba, però quello che deve fare lo fa benissimo. Vi faccio vedere un po' come funziona. Il regolamento del gioco, come detto in anticipazione, è di una semplicità veramente disarmante, ma deve essere così, perché ve lo dite, è proprio pensato come gioco wargame, perché fondamentalmente è un wargame di schermaglie veloce, però per introdurre in quell'ambiente di collezionismo, modellismo e tutto quanto, che è la gioia di tutti quanti e soprattutto anche la mia, perché io e mia moglie adoriamo queste cose. Tra l'altro, non ve l'ho fatto in anticipazione, se vedete un po' di cambiamenti intorno, se vedete un po' di confusione, casino via destra e sinistra, è perché si sta cercando di sfruttare tutto quanto lo spazio che abbiamo a rimodernizzarlo. Quindi, se vedete un po' di confusione anche a livello di luci, ombre, che non dovrebbero essere in punti vari, sono tutte cose che verranno corrette. Comunque, è un gioco veloce, che vi dicevo, che comprende il panorama di guerra, che va da, diciamo, ad inizio operazione Overlord. C'è un campo che va creato con delle mappe, qui non ci sono miniature e cose del genere, quindi siamo tutto a livello di token e segnalini. Andiamo a creare queste mappe per come sono nelle 10 dell'edizione base, sul regolamento e il libretto delle missioni. Andiamo a vedere la missione per come bisogna creare queste mappe, e come bisogna andare a scherare le truppe, che al momento, in questa edizione, ma ripeto solo questa, sono le forze alleate, vabbè, comunque gli americani, contro dall'altra parte le forze dell'asse, i tedeschi. E è un gioco competitivo, non è un gioco operativo. Una parte guida gli alleati e una parte guida le forze dell'asse d'opposizione. Più che altro, diciamo che la meccanica principale del gioco è un deck building. Noi abbiamo delle carte che ci vengono date dalla missione, perché, ad esempio, se la squadra di fuciliere ha tre carte fuciliere, con sopra segnato il A, la lettera A che va appunto a riprendere da quella squadra laggiù, ha quelle tre carte lì. Quindi, alla fin fine, sarebbe inutile mettere carte per truppe che non sono presenti in quella missione in campo, a meno che non possano rientrare successivamente come lo potete fare, come riserve, come rinforzi. Quindi avrete il mazzo di carte vostro, il mazzo di carte dei tedeschi, che ve lo dice la missione, come prepararle, tutto quanto, e poi si vanno a fare le azioni. Le azioni sono quelle scritte sulle carte, quindi ci può essere movimento per le truppe normali, attacco per le truppe normali, o ricognizione per i ricognitori, o anche il segnalino mortaio per sparare appunto con armi dalla lunga distanza. Perché l'idea del gioco è quello che te non ti puoi muovere su un pezzo di campo non ancora esplorato. In più, un pezzo esplorato, una parte, un tile di campo esplorato, può essere anche conquistato, perché se te ci muovi dei ricognitori, lo vanno ad esplorare, quindi ci metterà il segnalino esplorato. Le truppe possono andare in quel tile. Quale truppa in Seconda Guerra Mondiale andrebbe in un pezzo di campo che non è stato primo esplorato, magari ci sono i tedeschi appostati e vi buttano giù. Quindi non ti ci puoi muovere fino a che non venne esplorato. E se ci muovi una truppa sopra e usi l'azione, ad esempio, di conquistare, lo giri dall'altra parte il token e il territorio è conquistato. Un territorio conquistato dà dei punti, ovviamente perché dà dei punti a fine partita, ma magari potrebbe essere un obiettivo da conquistare. Quindi quando si fanno le azioni, cioè dal tuo mazzo, te hai sempre le tue quattro carte in mano, la prima carta la usate te e il tuo avversario con il numero in atta sinistra per vedere che ha l'iniziativa più alta, quindi quella carta va sprecata, se era un'azione di sparare non la puoi usare per sparare, perché l'usate per l'iniziativa, che è l'iniziativa più alta, muove tutte le sue truppe e poi l'avversario muove le altre. Per fare le azioni, si va a vedere quello che c'è scritto sulla carta, si va a fare l'attacco, si può tirare bene o male ovunque sul campo, a parte i mortai che non possono tirare sotto i tre di distanza, il mortai non è che tira a dieci metri, e quando si va a sparare, si va a vedere sempre il livello di difesa della truppa a cui si spara, magari quattro, il livello di difesa del tile dove si trova, magari la truppa americana alleata è dentro una casa, che gli dà un più due, quindi quattro più due, sei, e magari si vanno a contare anche le caselle di distanza da cui la truppa nemica spara, magari c'è una caselle di distanza, quindi quattro più due, sei, più uno, sette, dovete tirare il dado e fare il risultato minimo che è venuto fuori, quindi nel caso sette o più. Le regole fondamentalmente tutte qui. Quando una truppa viene ferita, semplicemente una truppa viene uccisa, si prende, si leva una carta, è il giocatore che sceglie una carta di quella truppa, la butta nella pila degli scarti e inizierà ad avere meno carte in mano. Quando non avrà più carte in mano, quella truppa sarà distrutta. È possibile in alcune missioni che non hanno truppe contate e fare entrare truppe di rinforzo successivamente. Comunque il gioco, ragazzi, è veramente facilissimo. Ovvio ci sono delle meccaniche in più, però l'idea principale, bene o male, è questa. In conclusione, Undaunted Normandy è un capolavoro e ve lo dico semplicemente e tranquillamente perché è un gioco per tutti, alla portata per tutti ed è veramente l'anticamera del wargame. è un gioco che ti cicatapurta in un panorama perché poi magari è tanto riutilizzata, però alla fine è affascinante come quello dei conflitti mondiali. Forse è stata anche in Prima Guerra Mondiale ad esempio sarebbe stata bellissima, ma anche in battaglie successive tipo il Vietnam, Guerra Fredda e cose varie. Però la Seconda Guerra Mondiale vuoi anche come film, videogiochi è quella che ci rimane un pochino più familiare in testa. E uno potrebbe dire, però, cioè, non è che lo compro unicamente per introdurre qualcuno a un gioco un po' più complesso tipo un Bolt Exxon on Flames of War. No, questo è proprio è un gioco a parte, quindi non è perché è facile come meccaniche che deve essere usato soltanto come un addestramento o un vediamo se potrebbe piacermi qualcosa in più. Questo è un gioco che come dicevo all'inizio neofiti ma anche esperti adoreranno perché le meccaniche sono semplici però a livello strategico non è uno scherzo è fatto bene e poi si pimpa da morire. Cioè invece di metterci i segnalini sì, che sul segnalino che mettete c'è scritto magari il numero della truppa la difesa ma invece di metterci i segnalini ci potete iniziare a mettere anche dei soldatini sul campo magari li rigirate stampate in 3D e sotto la base ci scrivete la difesa che hanno così sempre o sopra la base quindi si pimpa anche veramente bene magari in quel tile piccolino magari fate qualcosa non in scala 28 mm più piccolo però in quel tile dove c'è disegnata la casetta ve la stampate una piccolina e ce la mettete quindi si pimpa anche veramente da paure secondo me cos'ordatini diventa ancora più bello ed è un gioco veloce alla portata di tutti però che farà felice secondo me anche il giocatore un pochino più esigente ringrazio ringrazio grazie di cuore per averci offerto questa copia per la recensione se lo volete ordinare dal primo link in descrizione e in sovraimpressione dal nostro negozio sponsor gioco libreria semola al miglior prezzo sul mercato e vi ricordo di usare sempre come avete letto e state leggendo il codice sconto Coridan 7 per avere uno sconto del 7% quindi quando andate a comprare dove c'è scritto discount Coridan 7 tutto maiuscolo in più se superate la spesa di 79 euro avete anche le spese postali comprese nel prezzo in tutta Europa quindi anche fuori Italia e mi raccomando se non lo trovate in lista c'è perché ho controllato ma se fosse finito o non lo trovate scrivete una mail al supporto al proprietario Corrado della giocola libreria semola e ditegli arrivo dal canale di Coridan si potrebbe avere anche se non ce l'ha in lista lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e usate sempre il codice mi raccomando ragazzi è come me l'aspettavo e ho già diverse idee per pimparlo veramente bene e ci farò magari anche un video a parte ciao ragazzi alla prossima